MotoGP Martin domina la sprint di Misano, Bezzecchi e Bagnaia sul podio. Cari amici appassionati di motori, benvenuti a un nuovo entusiasmante episodio di The Sport News. Oggi parliamo di MotoGP e ci sono davvero tantissime emozioni da condividere con voi. La pista di Misano è stata teatro di una sprint epica e il protagonista indiscusso è stato Jorge Martin del Prima Pramac Racing. Dopo aver conquistato la pole position, il talentuoso pilota spagnolo ha dimostrato di essere in gran forma, portando a casa una vittoria convincente nella gara breve del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Una prestazione davvero eccezionale. Ma non è finita qui ragazzi, dietro di lui due eroi italiani hanno sfidato il dolore e si sono conquistati il podio. Sto parlando di Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia che nonostante le loro condizioni fisiche precarie a causa di incidenti precedenti sono riusciti a stringere i denti e a regalare alla Ducati una tripletta da brividi. La gara C ha regalato anche una battaglia emozionante tra Dani Pedrosa e Pecco Bagnaia. Pedrosa, in sella alla sua HTM, ha dato spettacolo e ha dato filo da torcere a Bagnaia fino all'ultima curva. Ma il nostro Pecco è stato coraggioso e ha difeso la sua posizione con maestria, sfruttando al massimo le sue abilità in frenata. Parlando di Marc Marquez, oggi la sua giornata non è stata delle migliori. Il campione spagnolo ha faticato e ha chiuso in nona posizione, fuori dalla zona punti. Un risultato inaspettato per lui, ma sappiamo che Marquez è un campione e tornerà più forte che mai. Un'altra nota positiva è stata la performance di Brad Binder, che ha fatto una rimonta incredibile dalla terza fila fino al quinto posto. Complimenti a lui per la sua tenacia. Purtroppo le Aprilia non sono riuscite a replicare le loro prestazioni nelle qualifiche in gara, con Maverick Vinales sesto ed Alex Espargaro ottavo, ma il motorsport è così, pieno di sorprese. Infine, Fabio Quartararo ha avuto una giornata difficile, terminando al tredicesimo posto, mentre il suo compagno di squadra, Franco Morbidelli, è stato penalizzato con una long lap penalty e ha chiuso diciottesimo. La Yamaha sembra avere dei problemi da risolvere. E così si conclude questa emozionante sprint a Misano, piena di colpi di scena e azione mozzafiato. Cosa ne pensate di questa gara? Lasciateci un commento qui sotto e iscrivetevi al nostro canale The Sport News per rimanere sempre aggiornati sul mondo dello sport. Ci vediamo alla prossima puntata.